Una delegazione di un liceo francese di Camperl è stata ricevuta dalle guardie zoofile di Farambiente Bracciano-Anguillara presso l'Istituto Superiore Ignazio Vian di Bracciano. Gli studenti una cinquantina hanno partecipato ad un incontro che è stato promosso da Andrea Mariani sulla salvaguardia e la tutela ambientale. Lo scopo di questo progetto è quello di sensibilizzare i ragazzi alla tutela dell'ambiente ed in particolare nella giornata odierna che è la giornata dell'acqua a cercare di utilizzare questo bene naturale in modo consapevole e idoneo al risparmio perché il bene primario è importante. L'abbiamo fatta proprio qui a Bracciano perché questo lago è stato oggetto di approvvigionamento in passato in modo sconsiderato da parte dei vari acquedotti di Roma. Gli studenti si sono dedicati ad attività didattiche, ambientali, operativi all'interno di aree verdi. Allora, gli studenti francesi si trovano qua per il gemellaggio che abbiamo con la loro scuola a Camper in Bretagna e oggi sono qui per conoscere la nostra organizzazione Farambiente-Anguillare Bracciano e spiegheremo loro che cosa facciamo, quali sono i nostri obiettivi e speriamo che insieme ci si possa anche divertire. Allora, gli studenti sono molto contenti di quell'esperienza nel senso che possono aiutare a tutelare l'ambiente. L'attività che abbiamo fatto è la raccolta dei rifiuti lungo il lago, direi, nel bosco. Per loro ne avevamo già parlato prima di partire a fare questo giro in Italia e quindi li abbiamo sensibilizzati sul fatto di avere attività di cittadinanza per aiutare l'ambiente.